Cantine aperte a Natale e l'Ovolio extravergine. Le due iniziative dedicate agli amanti del vino e dell'olio hanno concluso il ricco calendario di eventi organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia per il 2014, realizzate con il sostegno dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. In Puglia è ovvio che l'olio doveva necessariamente essere presente per chiudere l'anno del Movimento Turismo del Vino, del nostro consorzio dove abbiamo principalmente il vino come attore, ma in Puglia l'olio è a fianco al vino. Da nord a sud della Puglia alla vigilia dell'Immacolata ha aperte per l'occasione le cantine di Lucera, quelle di Andria, Trani, Polignano Amare, Montemesola, Carovigno, Tugli e Copertino. Tra i frantoi aperti ai tanti visitatori quello di Mattinata, Biceglie, Trani e Ostuni, tante le iniziative di grande suggestione messe in atto dalle aziende per stimolare il coinvolgimento dei visitatori, selezioni di prodotti tipici, musica, mostre e attività culturali. Hanno accompagnato la giornata accanto alle classiche visite, alle cantine e ai frantoi e alla degustazione dei vini e degli oli di produzione. L'olio è ancora poco conosciuto rispetto al vino. Siamo felici di collaborare da 20 anni con il Movimento Turismo per il Vino che ovviamente ha valorizzato insieme questo importantissimo prodotto mediterraneo, della Puglia, del sud Italia. Stiamo esprimendo la vera Puglia, quindi il Movimento Turismo del Vino lavora per questo e noi siamo felici di partecipare e avere questo consenso piuttosto ampio da parte dei conoscitori di vino. In cantina e frantoio anche tanti sportivi e amanti della natura che hanno scelto gli itinerari in bicicletta organizzati dalle associazioni Ruota Libera Bari e Ciclo Amici in Mesagne e Brindisi. Questo evento, così come la conoscenza dei frantoi, così come la conoscenza delle risorse enogastronomiche della regione, dove c'è da mangiare e da bere, ci sono i ciclo amici a valorizzare queste risorse. La bicicletta è un mezzo lento, così come lenta deve essere la scoperta del territorio. E' naturalmente tutto ciò che produce il territorio, dal vino al cibo alla cultura in senso più esteso. Una straordinaria giornata dunque che ha consentito a turisti appassionati e curiosi di gustare gli inediti itinerari, scoprire le aziende e incontrare i produttori, assaggiando e acquistando i vini e gli oli extravergine di produzione direttamente nei luoghi in cui nascono. E con l'approssimarsi del Natale, questo doppio appuntamento ha rappresentato anche un'interessante opportunità per acquistare i doni da mettere sotto l'albero e sulle tavole dei pranzi e dei cenoni per le prossime feste.